Lascia che il cinema faccia la sua parte come il fischio del vapore incanta i cani La macchina da presa è amore e commercio, ombre e luce Questa sera al Parco Orcinus Orca anche la presenza di Vincenzo Consolo che salutiamo e che credo già conoscesse questo luogo meraviglioso Conoscevo questo luogo mitico e qui è il mito per eccellenza Non avevo mai visto il Parco Orcinus Orca, l'ho visto nell'aprile scorso Ho trovato un luogo di grande interesse e di grande bellezza Soprattutto oltre il nuovo fabbricato che era il vecchio tirassegno credo che fosse Ho ambientato un mio racconto qui che si chiama Frascille e Cariddi Non conoscevo il fabbricato storico dove c'era il faro Io spero che questi luoghi rimangano, che siano testimonianza di una profonda storia siciliana Che non vengano assolutamente cancellate da quello che è oggi il furore distruttivo dei nostri tempi Credo di capire che lei stesse parlando del ponte sullo stretto che mi sembra sia all'ordine del giorno come dibattito E lei da intellettuale pensa forse che un ponte culturale in realtà è sempre esistito Sì, io naturalmente parlavo del ponte sullo stretto di Messina che mi sembra una grande fandonia Una grande impostura, una grande minaccia anche, minaccia per questa nostra isola Oltre che per la Calabria, minaccia di distruzione appunto dei segni Anzitutto della memoria storica e dei segni della storica che sono rappresentati da questi luoghi Da questo stretto di Messina Non abbiamo bisogno del ponte Io non sono un tecnico ma ragiono da cittadino E penso che sia una violenza ambientale Una violenza alla storia Una violenza alla memoria Una violenza to cure in tutti i sensi Un'altra violenza alla violenza alla violenza